RINGOI! Con la zoccola di mia moglie l'altro giorno aveva l'amante in casa ma io me ne sono ancora troppo tardi praticamente ha detto all'amante di nascondersi in bagno perché era nulla allora che arriva a casa l'aveva l'amante detto al 10 di mattina ma che finché ci fai l'amante del 10 di mattina? e niente caro stava riposando sei sicura? allora io andavo a tutta la casa a cercare l'amante e finalmente quello sconso l'ho trovato in bagno ma questo figlio mi ha detto ma c'è ricco io sono l'amante della signora del piano di sopra e mi ritengo a casa al marito e io purtroppo ho dovuto scappare al piano di sotto anche se mi sono rifiutato in questo bagno se mi hai i vestiti io posso andare a scappare e ritornare a casa va bene gli faccio tieni i miei vestiti tocca e vai pure tranquillo a casa per solidarietà maschile in questi casi ci sta poi un'altra notte mi sono svegliato e mi è iniziato a picchiare i miei affogli e gliene erate tante ma tante ma tante ma tante ma tante e perché gliene erate così tante? perché noi abitiamo in un attico